Volpi e Tassi uccisi perché colpevoli di decimare la fauna riservata ai cacciatori clienti della sua azienda. Questa è la ragione principale dietro alle azioni del 65enne proprietario dell'attività faunistica venatoria alla Rocca di Maioletto. L'uomo per andare incontro ai propri clienti ha iniziato a posizionare trappole lunghe e sentieri della sua proprietà, grande circa 400 ettari, con l'intento di eliminare Tassi e Volpi. Una volta che questi cadevano nelle sue esche venivano lasciati morire di stenti o per soffocamento. La guardia forestale è giunto all'uomo dopo una serie di segnalazioni fatte dai cittadini e dalle associazioni, l'ultima lo scorso 4 gennaio, quando una coppia facendo trekking ha notato una volpe intrappolata da un laccio. L'attività di Dacine è partita da una signora che ha individuato durante un'attività di trekking una volpe che era stata presa al laccio, che stava sofferente, che ha provato a liberare ma chiaramente non riuscìa perché la volpe gli dava contro e però ha fatto subito segnalazione alle associazioni della protezione degli animali che ci ha chiamato e ci hanno riuscito a intervenire immediatamente. Tra l'altro quella volpe è riuscita a essere liberata. Gli agenti hanno allora battuto il territorio rinvenendo numerose trappole e lacci in cui erano caduti gli animali, alcuni dei quali erano morti. Quelli ancora in vita sono stati immediatamente portati a far medicare, alcuni sono sopravvissuti. La guardia forestale ha cercato di bloccare i colpevoli eseguendo delle fototrappole ma senza riportare risultati positivi. Il 65enne infatti si limitava ad uccidere volpi e tassi senza interessarsi del recupero dei loro corpi una volta che erano deceduti. Grazie alla procura di Rimini allora si è arrivata alla perquisizione dell'abitazione, dell'auto e dell'azienda dell'uomo, riscontrando questa volta prove che hanno confermato la sua colpevolezza. Il 65enne è stato inoltre denunciato per detenzione di armi e cartucce non autorizzate. Davanti al sequestro l'uomo non ha ammesso alcuna colpa, intanto però probabilmente gli sarà revocata dal prefetto l'autorizzazione da guardia caccia che attualmente detiene. La guardia forestale ha inoltrato comunicazione anche alla questura e alla provincia che probabilmente prenderà provvedimenti nei confronti dell'azienda dell'uomo.